ma mi dovevi mettere prima come mai sei andato via caputo salvatore vieni a salutarmi caputo ciao 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 allora dai dimmi quello che dicevi da juventino mascherato dai tira fuori le palle adesso tira fuori le palle adesso tirate fuori adesso le palle non quando eri live da juventino mascherato che sparava in merda dai vuoi che ti vada a prendere la registrazione delle live vuoi che te ne vada a prendere ma contro di t sì anche contro di me sì anche contro di me no no non farlo ignorri non farlo ignorri non farlo ignorri e noi attenti abbiamo sempre trattato con i guanti bianchi sempre e tu andavi nella live juventino mascherato a sparare merda insieme a lui e ti devi vergognare ti devi vergognare non fare così con me il furbo non lo fai con me il furbo non lo fai perché voi pensate che noi non guardiamo niente è capito se vuoi ripeto ti vado a prendere tutte e tutti i pezzi delle live vuoi vedere che ho detto che ho detto contro di te contro di te contro di te contro di te non fare il furbo perché lui parlava di me di luca della crew del capitano di questo e di quell'altro e tu dicevi lasciali perdere non valgono niente ti vado a prendere i pezzi delle live non fare non fare non fare l'ignorri non fare l'indiano per non far la guerra tira fuori le paglie dimmi quel cazzo che c'hai da dire su di me sulla crew dimmelo nei denti apprezzo di più apprezzo di più e adesso stai facendo pure lo strano ma cosa stai dicendo ma te pensi che sono deficiente cosa cazzo pensi cosa pensi che poi arrivi nella live di marchese ti balli ti ballano o non ti fanno entrare e mi mandi pure il messaggio in privato dopo che mi vuoi fare in merda addosso ti permette il pure di contattarmi in privato ma quanti anni hai quanti anni hai quindici ma quanti cazzi geniali anni ma vergognati tu ti devi vergognare te lo dico io ero un po tu ti devi vergognare tu ti devi vergognare e sai benissimo di cosa sto parlando lo sai benissimo guarda che ti stai sbagliando guarda che ti stai sbagliando no io non mi sbaglio io non mi sbaglio perché insieme a gioventino mascherato c'eri te non c'ero io hai capito senti bene cosa ho detto senti bene cosa ho detto senti bene cosa ho detto evidentemente non ci arrivi di cervello perché spari minchiate non te le ricordi neanche ma ti ripeto ci vogliamo mettere su 10 mila euro e ti vado a tirare fuori tutta la merda che hai detto che li vuoi mettere su 10 mila euro ma guarda che ti stai sbagliando no tu ti sei sbagliato a venire su youtube perché spari puttanate hai capito spari puttanate e non solo nella live di io e tiro mascherato anche in altre live che non ho voglia di nominare non fare il furbo con me come non lo puoi fare proprio il furbo io non ti contatto in privato perché non me ne frega un cazzo c'ho pure il tuo numero di telefono ma non me ne frega un cazzo di contattarti in privato capito perché io la gente la smerdo sul tubo visto che voi vi permettete di buttare merda senza anzi a persone che vi hanno solo aiutato capito perché tu nelle mie leggi sei sempre venuto ho fatto sempre salire hai sempre rotto i coglioni tu ho sempre fatto salire lo stesso e tu quando qualcuno ti rompeva il cazzo mi mandavi in privato ti difendevo pure e poi sei andato lì a sparare merda vergognati a 50 anni 60 anni quanti cazzi ne hai vergognati vergognati perché se c'avevi qualcosa con me il mio numero ce l'hai mi contatti in privato e non per dirmi pandorino mi ha bannato cosa devo fare vai a fare il culo ecco cosa devi fare come vedete la persona aggressiva sei tu non sono io non sto dicendo aggressivo sono aggressivo tu devi ringraziare che io e te siamo lontani perché se quando tu dicevi quelle cose le live avevamo vicini poi la vedevi l'aggressività questa è niente capito qua ti sto solo sputtanando ti sto solo sputtanando perché non c'hai neanche le palle di confermare quello che dicevi nelle live non ce li hai le palle perché c'è un uomo senza palle hai capito sei un uomo senza palle hai capito bello mio hai capito fai lo strano Pierino lo scemo mi sembra a me sembra che stai dicendo vergognatevi vergognatevi ti devi vergognare ti devi vergognare e basta faresti più bella figura perché le live sono ancora lì eh le live sono ancora lì non fare il furbo non fare il furbo non lo devi fare proprio il furbo c'ho più piacere se dici sì l'ho detto in quel momento mi andava di dirlo ti fa più uomo capito che sta qua a dire io te no su di te io ho detto già io ho detto già io ho detto Gianni con me ti è comportato male io ho detto così appunto 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 tu non dici un cazzo quello è il tuo problema capito però confermi la merda che sparava lui capito lasciali stare io ho avuto a che fare ma brutta gente hai capito senza far nomi ma con me il furbo non lo fai non non sei in grado di fare il furbo con me ma non sei in grado Gianni come hai detto che io ce l'ho con te non ce l'ho con te no non me ne frega un cazzo tu hai toccato la crew hai toccato i componenti della crew va bene e come ci hai toccato a me hai capito e come ci hai toccato a me quindi non rompere il cazzo non devi proprio rompere i coglioni perché io quando c'ho qualcosa con qualcuno vado gli telefono e glielo dico hai capito non che devi stare lì a farlo show perché ormai era l'unico che ti faceva entrare nelle live hai capito perché non ti fa entrare più nessuno perché hai rotto il cazzo a tutti hai capito che ho fatto io capito hai rotto i coglioni a tutti a tutti io e che sento scusami va a me capito a questo punto entravi nelle live poi entravi dalle altre parti a sputtanare anche con i messaggi tipo max montagna o tipo altre live non dire cazzate a me a me mi arrivano tanti di quegli screen che tu neanche troppo immaginare hai capito tu non te lo puoi immaginare tu di tutto quello che hai detto sul tubo e di quello che hai scritto io c'ho tutti gli scritti e tutti in tutte le clip delle live hai capito ce ne ho tutte tutte dalla prima all'ultima eh ho detto le cose contro di te ascolta salvatore franzè molla la storia molla la storia non fare ripeto non scendere giù dal pero con me hai capito io non sono visionario io non sono un pazzo io non sto dicendo che tu sei pazzo non dicendo che tu sei visionario prenditi le responsabilità hai sentito cose per un altro no io non ho sentito una cosa per un altro mi stai dando del deficiente non ho detto non ho sentito cose per un altro quando si parla di Gianni di Luca della crew Gianni di Coscio e tu dici sì sì lasciali stare ma che cazzo ma allora posso chiarire posso chiarire ma io dico la perché per me è finito t'ho rispettato anche troppo hai capito anche troppo anche troppo t'ho rispettato fidati troppo mi rispetto vabbè se tu parli solo tu e gli altri parla 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 il mio senso se vuoi saperlo era chi lascia stare infatti cioè lascia lascia stare tu hai fatto allusione a dire io ci ho avuto a che fare sono brutte persone hai capito hai detto questa frase hai detto questa frase non dire cazzate non dire cazzate perché se io sono entrato qua a dirti questo hai capito perché l'hai detto hai capito perché se no non entro non so pazzo che entro e accuso uno di cosa ma fammi il piacere e vergognati fidati vergognati poi fa quel cazzo che vuoi adesso puoi andare a sputtanarmi vai vai non c'è problema siamo pazzi noi spacca calcio capito siamo visionari noi capito noi siamo visionari guarda caso guarda caso l'ha visto tutti tranne tu che l'hai detto non lo sai tu non lo sai perché tu fai fai lo scemo tu fai lo scemo per non andare in guerra non che sei scemo fai lo scemo per non andare in guerra cosa io no ma guarda di ti papà tutte tutte cazzate e minchiate capito le tue sono tutte cazzate e minchiate ma a me non mi sembra che ho detto tutte queste cose comunque eri ubriaco eri ubriaco non so come come è venuta questa storia chiaramente l'ho detto luca io se entro parlo e quindi tu hai chiesto 50 volte sono entrato perché non volevo neanche entrare però se entro parlo io perché io parlo in faccia non ho la faccia di cazzo io che per prima dico una cosa e poi se trovo davanti quello lì dico no io no ma guarda hai capito male che no io non capisco male io capisco anche fin troppo bene prima che tu apri bocca io ho già capito la stronzata che stai dicendo capito prima che tu apri bocca io ho capito la stronzata che stai dicendo capito ma quale stronzata cioè quale stronzata tu ogni parola che hai detto in quel canale lì hai detto una stronzata hai capito ogni parola che hai detto una parola vergognosa capito vergognosa e la tua età perché se lo fa uno di 15 anni 20 anni 25 anni mi diceva bello ma va a fa culo capito no ma se non dice uno di 50 e poi non c'ha le palle di dirtelo in faccia è preoccupante la cosa è molto preoccupante io mi dispiace io sono uno che parla nei denti non ti parlo dietro io ti parlo dei denti ho aspettato vedi io sono come il pescatore io mi metto in riva al fiume capito e aspetta che il pesciolino prima o poi passerà prima o poi passa non c'è niente da fare prima o poi passa io entro solo cinque minuti perché io questa sera sono in libertà quindi questi tre sere però mi è capitato che non lo sapevo neanche che stai qua ciao luca giravo il cellulare all'improvviso è partito sta live non si sa perché no 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 nel senso che no 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 c'è allora capito vuoi sapere tutti i canali dove vai a parlare male io ce l'ho tipo in archivio simone avsi max montagna juventino mascherato voglio andare avanti ma france ma france ma non fare il bambino dell'asilo sei un bigliacco sei sei un bigliacco sei un bigliacco hai capito non siamo visionari c'è tu il pazzo capito c'è sì tutte le parti se dici questo lo neghi sei tu il pazzo non siamo tutti noi hai capito no ma io continuo a farlo strano ma io te lo dico proprio tranquillamente perché sto rilassato proprio nella pace dei sensi tu in ogni chat quelli della crew non ci vado più hai detto le peggiori cose eccetti quando ti posso portare ti posso dire anche le live perché io vedo tutto purtroppo io gliel'ho già detto io gliel'ho nominato solo juventino mascherato e max montagna ah timone avsi tanti che lui è pure abbonato io ti so in memoria delle live che frequenti capo quindi non ti fai le puttana le puttana te le vai a dire agli altri quindi non ti preoccupa quindi noi noi neanche le palle a me lo dici ti stiamo sul cazzo e lo dici no invece chi no non è vero non è vero non è vero e poi hai fatto quella sceneggiata da pandorino patetica veramente una delle cose più tristi che abbiamo visto di una persona umana cioè quella volta quella volta lì io non c'ero da pandorino ma vedo un messaggio in privato da caputo gianni pandorino ma bannato come mai parlaci tu pure vuoi leggere che mi hai mandato il messaggio te lo devo leggere adesso allora il messaggio sì ma io perché stavo scherzando con lui e lui stavo scherzando tu butti merda addosso alla gente poi scherzi tu butti merda addosso poi scherzi perché tu sai come sei se lo dico io come sei tu butti merda addosso alla gente poi quando trovi quello con le palle che ti prende ti manda a fare in culo poi dici no ma io stavo scherzando no ma io non ho detto niente no come stai facendo adesso tu sei questo tu sei questo tu sei la una delle persone più ambigue che io ho trovato su youtube e mi ho trovati di pezzi di merda eh mi ho trovati tanti ma che cosa ha fatto da pandorino vuoi sentire cosa gli ho detto io non sto parlando di quando io non ci sono e non so le cose non lo dico non dico un cazzo io so solo che tu mi hai mandato il messaggio non so neanche che cazzo è successo e non lo voglio neanche sapere no non lo voglio sapere perché sei un cazzaro sei non lo voglio sapere perché io so quello che ho detto perché l'ho ascoltato con le mie orecchie con le mie orecchie da giuventino mascherato e quello che scrivi da max montagna hai capito non rompere il cazzo a me non rompere il cazzo cancella il mio numero non ti permette mai più di chiamarmi hai capito mai più non ti devi mai più permettere perché io il mio numero di telefono lo do alle persone e le persone oneste non alle persone che hanno quattro facce hai capito è chiusa qua bella democrazia no la democrazia guarda che sei tu che non la fai perché tu sei maligno non mi fai neanche parlare guarda che tu hai fatto che va a parlare male nelle altre live guarda che non è che la democrazia non ce l'ha mai data in live in chat non fare non fare non fare il depensante che entra in chat è un professore che si ma alla tua età devi fare pure l'uomo devi dire io mi fate schifo basta senza inventasse storielle da quattro soldi che fai più bella figura la dignità di prendere le proprie azioni niente quindi le azioni inventi sceneggiate non credo di aver detto quello che ha detto già non credo di aver detto quello che ha detto già anni e no no hai detto anche cose peggio nelle altre live guarda che le live sono lì da andare a vedere sono lì le live vattene a vedere vattene a riascoltare tutte vattene a riscoltare tutte sono lì le live io ho detto che tu non so che tu Gianni ma tu insegni tu agli alunni o sono gli alunni che insegnano a te fammi capire fammi capire insegni tu agli alunni o sono gli alunni che io ho parlato chiaro capito è inutile che gira la frittata hai capito inutile che io quello che ho detto se non hai capito adesso stavi uscendo essi porta indietro la live e riascolta quello che ti ho detto capito professore hai capito che ti vado Gianni che secondo me hai sentito una cosa per un altra ho sentito una cosa per un altro ok ok ho sentito una cosa per un altro sì 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 Italia 1 Italia 1 ma vabbè chiudo il discorso fidati chiudo il discorso perché dopo mi incazza ancora di più guarda adesso non mi sono incazzato non sono detto quello che avevo da dirti capito però se mi fai incazzare dopo sono più pesante capito quindi siccome non è la mia live perché se entravi in una mia live ti facevo a fette proprio capito ma proprio a pezzettini di una cosa che non credo di aver detto pezzettini dialogo capito non che ti venga a fare a pezzettini no capisci professore perché tu secondo me c'è un professore duro di coprentonio capito si offrendo pure il mestiere che faccio io non ho detto il mestiere del professore ho detto che tu sei duro di coprentonio e se tu e se tu se tu se tu sei quello che deve fare la dimostranza sei il di maio della politica tu capito sei il di maio di maio ministro dell'estero tu professore capito quindi sto difendendo la categoria professori capito la sto difendendo perché dovrebbe essere un'altra cosa capito non ne offendi professori io non offendo nessuno io sto parlando di te caputo francesco capito che poi fai il professore fai lo spazzino fai il mentecatto fai il ladro fai il politico non me ne frega un cazzo sto parlando di caputo francesco non mettere in mezzo cazzate che non servirà niente non lo fesi professore sto offendendo te no che poi non ti sto offendendo ti sto descrivendo per quello che sei caputo è ancora l'opportunità è ancora l'opportunità di far l'uomo di che l'hai detto queste cose è emotiva ma ti ripeto non credo di aver detto così gli ho detto gli avrò detto sicuramente lascia stare fai altri live tu lascia stare se ritieni che queste persone siano così lasciali stare l'avrò detto così no 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 bello no 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 non mi affinocchi a me te te e me non mi affinocchi hai sbagliato personale ma per farlo stare per farlo stare andai dietro guarda lascia stare perché proprio lascia stare quelle persone lì proprio così lasci stare queste persone qua io ci ho avuto che meglio che non parlo perché parla parla, c'hai avuto a che fare parla, c'hai la possibilità prima di venire qua, ho condiviso anche la live adesso siamo in 50 parla, parla hai detto che se parlo io parla, dimmi che c'hai da dirlo a me di, di, dillo, sputtanami non ho detto così sputtanami, non c'hai le palle perché non c'hai la verità in mano, perché non sai cosa dire perché ti abbiamo solo che hai trattato bene hai capito? E sei andato a fare la merda negli altri canali, questo è il discorso questo è il discorso i tuoi messaggi nelle live di Max Montaigne io li ho visti, quello che scrivevi capito? Io li ho visti se tu non sei capace di intendere o di volere puoi un altro discorso, come io ti reputavo una persona intelligente, capito? leggere quei messaggi e quelle frasi che tu hai detto da Juvettino Mascherato, io non ho capipare ho capito benissimo con chi ho a che fare a me non mi sembra proprio che ho detto cioè, queste cose ciao, ciao capo, hai detto le cose, quelli sono brutta gente ce ne hai detto, di tutti i colori ma dillo, dici, Gianni è un pezzo di merda per ti spacca un tipo di merda è più accettabile così sembri un povero Dio sembri uno di 15 anni che non sa ragionare dillo, Gianni quando ho il discorso degli amici che poi pian piano me li vengono in mente perché io non è che sto pensando a te e a quell'altro gli amici, ecco tu hai detto ma quelli non sono amici ma lascia stare che cazzo ne sai tu quello che è successo a me vai, chiama Alex io l'ho fatto entrare nella mia live io che c'è che non mi sono comportato d'amico lui non si è comportato d'amico con me non io con lui hai capito? quindi prima di schierarti di dar ragione alle persone visto che sei un professore devi sapere i fatti devi sapere i fatti se no fatti i cazzi tuoi capito? fatti i cazzi tuoi non credo di aver detto queste cose salvatore francesco non so che neanche come cazzo ti chiami una volta ti chiami salvatore caputo una volta francesco caputo non si capisce neanche vabbè non è un problema non è un problema dai super facci perché c'ho due nomi non è un problema no guarda qua ma te davvero ma c'è ma io te i tuoi no guarda lascia stare guarda è meglio è meglio che ho detto che io mi sembra proprio strano questa cosa eh tu sei strano è finito la stranità stavi andando devi andare a letto devi andare a lavorare cosa è che hai detto puoi andare dove devi andare io quello che c'avevo da lì te l'ho detto e qua mi fermo vabbè bravo arrivederci auguri e buona Pasqua ciao comunque ripeto non mi hai detto un secondo ancora capo ancora dovevi andare a letto vai a letto dai ti sei spompato da solo eh ti sei spompato da solo ti sono spompato no sei spompato senza sì no è come se io adesso il discorso adesso io non so io non so niente allora aspetta adesso non ce l'ho adesso ce l'ho con la tenda allora non mi devi rompere il cazzo hai capito mi sta rispondendo mi sta parlando aspetta la tenda mi sta facendo più soddisfazioni a parlare con la tenda io sto parlando con la tenda mi raccomando eh tieniti sempre dritta se ti do fastidio qua me lo dici ok va bene a posto risolto anche con la tenda dai e quindi non vuoi sapere neanche che è successo da Pandorino a madonna di Cristo non vuoi sapere a madonna di coronata che sta in cielo il protettore bella democrazia vabbè Pandorino cazzo me la frega Pandorino sì eh va va ok comunque ti saluto arrivederci auguri quante volte devo salutare eh dai vai a fare vai a vedere se c'è una live adesso la prossima live che fa qualcun altro vai lì vai vai a correre poi devi dire non lo so hai capito male ciao comunque ciao Luca ciao 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 no perfetto bene insomma Luca te l'ho detto sì sì no io ho pensato un'altra cosa io non so i vostri i vostri oscuri passati però io no quello che quello che hai voluto dire è detto chissà perché prima stavo parlando tantissimo appena ho scritto io in chat ho smesso di parlare ho smesso di